L'aglio, Allium sativumelle, appartiene alla famiglia delle Liliacee. Alconi studiosi, però, per la forma dell'infiorescenza, la inseriscono, come la cipolla, nella famiglia delle Amarillidacee. Grazie alle sue proprietà, è utile per il sistema immunitario, respiratorio, circolatorio e contro raffreddore e influenza. Scopriamolo meglio. Storia dell'aglio L'aglio è una pianta conosciuta fin dai tempi antichi tanto che era già utilizzata dagli Egizi nel III millennio a.C.E., successivamente, dai Greci, dai Romanni, dai Cinesi e dagli Indiani.I bulbilli oggi vengono usati fin dall'antichità come condimento di cibi. Utilizzati, crudi, in insalate o aggiunti a sughi, stufati, piatti di pesce o verdure. Molto impiegati anche nella preparazione di insaccati, salame all'aglio, e nell'industria conserviera per antipasti sott'olio e sott'aceto.Oggi la pianta di aglio viene coltivata in tutti i continenti ed è molto nota per l'uso culinario. In Italia viene coltivata maggiormente in Campania, Emilia Romagna, Veneto e Sicilia. È una perenne rustica, coltivata come annuale. Proprietà e benefici dell'aglio L'aglio ha una reputazione medicamentosa di tutto rispetto. Ottimo per la prevenzione di influenza, malattie cutanee, raffreddori e infallibile disinfettante per l'intestino.Uno spicchio d'aglio è serbatoio di principi attivi curativi di notevole efficacia come allicina, zolfo, vitamine del gruppo B. Approprietà anti-elmintiche contro gli ascaridi e gli ossiuri, antimocolitiche, ipotensive, espettoranti, digestive, carminattive, antisettiche, ipoglicemizzanti.E' stato ormai ampiamente dimostrato il ruolo di questa pianta nella regolarizzazione della colesterolemia e dei trigliceridi e nel miglioramento del rapporto tra colesterolo LDL e colesterolo HDL, cioè tra lipoproteine cattive, che favoriscono la formazione di depositi di colesterolo nelle pareti arteriose, e lipoproteine buone, ossia quelle che funzionano come minuscoli spazzarterie, allontanando i dannosi accumuli di colesterolo.Può essere utile nelle infezioni croniche causate dalla candida albicans e in quelle dell'apparato respiratorio.All'aglio sono riconosciute anche notevoli proprietà piccanti. Aiuterebbe infatti a mantenere una sessualità attiva e sana, essendo un cibo dalle proprietà afrodisiache, soprattutto grazie all'azione positiva che esercita sulla circolazione in generale. Calorie e valori nutrizionali dell'aglio 100 g di aglio contengono 41 kcal barra 171 kg. Inoltre, per ogni 100 g di questo prodotto abbiamo. Acqua 80 g. Carboidrati 8,4 g. Zuccheri 8,4 g. Proteine 0,9 g. Grassi 0,6 g. Colesterolo 0,9 g. Fibra totale 3,1 mg. Sodio 3 mg. Potassio 600 mg. Ferro 1,5 mg. Calcio 14 mg. Fosforo 63 mg. Vitamina B3 1,30 mg. Vitamina A5 G. Vitamina C 5 mg. L'aglio è alleato di intestino, sistema immunitario, apparato cardiovascolare, apparato respiratorio. Curiosità sull'aglio si dice che l'aglio crudo lasci quel sapore che, al mattino seguente, stenderebbe qualsiasi interlocutore. In realtà, in questo caso, come in molte altre circostanze della vita, occorre saper affidarsi al proprio buonsenso e non eccedere. Se è vero che uno spicchio di aglio crudo assunto ogni giorno e per lunghi periodi può causare irritazioni alle pareti intestinali e danneggiare le cellule ematiche, un consumo moderato non può che migliorare lo stato di salute generale. Magari evitate di assumere il prezioso spicchio prima di una riunione o di un incontro galante. Una ricetta nella manica se volete godere delle sue proprietà in pieno, potete preparare un decotto d'aglio o una semplice bruschetta. Il suo sapore penetrante viene esaltato nella cosiddetta zuppa all'aglio, primo piatto tipico della Catalogna e della Spagna, a base di pane, pepe rosso macinato a freddo, uova. Se poi è vero che la semplicità premia, con un classico spaghetto aglio, olio e peperoncino fate scorpacciata di buon umore e principi nutritivi. Mettete a bollire l'acqua a fuoco vivo, dopo aver tagliato l'aglio a fettine. In una padella larga fate scivolare un velo omogeneo di olio extravergine e, a fuoco dolce, soffriggetevi l'aglio tagliato a fettine sottili e il peperoncino sminuzzato.Quando l'aglio ha preso un deciso colore dorato, salate appena e spegnete. Ritirate, aggiungete un ciuffo di prezzemolo tritato. Lessate gli spaghetti al dente, scolateli e conditeli caldi. Vini di accompagnamento, gavi doc, frascati secco doc, leverano bianco doc. Ciao! 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 Grazie a tutti